La struttura Enzo B di cui stiamo parlando questa sera, di cui lei è direttore, non si occupa solo di adozioni internazionali ma tratta anche principalmente di questo. Come nasce una struttura di questo tipo? In effetti Enzo B da questo punto di vista è una vocazione adulta. Enzo B nasce nel 91 e solo nel 2004-2005 attraverso l'iter autorizzativo che è richiesto per poter operare in questo settore che è rilasciato dall'autorità italiana che è la Commissione per le Adozioni Internazionali si è appunto affacciato al mondo delle adozioni. Come si arriva? Tanto diciamo che il mondo delle adozioni è popolato da uno stuolo di organizzazioni no profit. In Italia sono quasi un po' meno di una settantina, 63-64, tutte organizzazioni secondo la legge senza scopo di lucro che nascono anche alcune da moltissimi anni, da alcuni decenni, di solito dall'aggregazione di famiglie adottive o affidatarie che prima della legge attuale che ha strutturato molto bene il percorso rappresentavano un po' le occasioni di mutuo autoaiuto, cioè di autoorganizzazioni tra famiglie che avendo avuto l'esperienza adottiva supportavano altre famiglie che volevano fare questa esperienza. Con l'anno, come è stato detto nella scheda, con il 98, la legge 476, viene poi istituito l'albo che poi Enzo B. entra nell'albo degli enti alle adozioni internazionali nel 2004, a fine 2004 e con il 2005-2006 inizia questa avventura. Anche nel caso di Enzo B. la motivazione è l'incontro tra l'esperienza individuale, Enzo B. è un'associazione di famiglie che quindi hanno un po' al centro il tema famiglia, genitorialità, bambini. Questo obiettivo comune. Esatto, è un po' la nostra mission e dall'altra parte con la struttura organizzativa che sempre di più per la legge italiana e le procedure definite dalle convenzioni internazionali richiede professionalità, organizzazione, presenza e struttura. Quindi dagli albori, dai pionieri di puro volontariato, appunto di mutualità interno a gruppi di famiglie si è diventati sempre di più, sempre mantenendo l'assenza di scopo di lucro delle strutture con alta professionalità e livello di organizzazione.